Allora Matteo, un sole d'oro che dà l'idea di un esempio, ecco, anche perché sei giovane e il volontariato è cosa che deve riguardare e coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. Effettivamente penso che il volontariato sia uno dei pilastri della nostra società e soprattutto che possa essere concretizzato non soltanto in quello che sono azioni più grandi, ma anche nelle piccole azioni quotidiane di tutti i giorni, quindi soprattutto per quello che è una causa come l'ambiente e poi anche Greenpeace che è un'associazione mondiale che opera dagli anni 70, effettivamente ogni piccola azione è sicuramente buona per dare un contributo positivo. Nell'immaginario collettivo Greenpeace è anche abbastanza avventurosa, audace nelle sue incursioni, è ancora così? È così anche per te? Allora, io sono volontario, effettivamente mi occupo di quelle che sono le questioni territoriali, coordino il gruppo, faccio molta divulgazione spesso all'interno delle scuole o comunque come attività di partecipazione collettiva. Greenpeace è anche questo, c'è veramente tanta azione e sì, ci sono azioni più avventurose, assolutamente, come barconi, salire su piattaforme petrolifere, però purtroppo lascio queste cose ai veri professionisti.